Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di The Awesome Adventure of Captain Spirit Come al solito io sono Emanus Fidel, benvenuto in questo nuovo video Amici continuiamo questa fantastica avventura Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto il nostro Captain Spirit Questo ragazzino che ha un sogno, forse vuole evadere dalla realtà E credo che lo capiremo, però dobbiamo ancora andare avanti, scoprire nuovi segreti Ma questo ragazzino vuole, a parere mio, evadere dalla realtà, una realtà brutta Dove padre e madre non sono più assieme e forse il padre lo picchia E lui cerca di vivere in questo sogno, pseudo realtà, fantasia, realtà fantastica dove lui è un supereroe Andiamo avanti e scopriamolo, ma vi ricordo di lasciare un like, un commento, una condivisione Iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici Questo gioco è eccezionale, grande trame Vi ricordo che sarà una piccola perla prima dell'uscita di Life is Strange 2 Quindi attenzione perché ci saranno probabilmente degli easter egg o dei collegamenti Che ci faranno vedere qualcosa di Life is Strange 2 Detto questo amici, ci vediamo subito in game Ma come al solito, lo sapete, prima di tutto Via la cam! E la cam se ne va e noi ovviamente continuiamo là dove l'avevamo lasciato l'altra volta Cioè all'apertura della porta E eccola qua Ovviamente con i superpoteri apriamo la porta E vediamo cosa c'è qua Dobbiamo esplorare anche parte della nostra camera che non siamo riusciti ad esplorare E anche capire alcune cose e alcune probabili meccaniche Praticamente abbiamo visto che dobbiamo provare dei pezzi Completare il nostro costume Abbiamo tante cose da fare Questa camera sembra totalmente Allora, qua Lui penso che si stia immaginando Questa cosa Mi immagino Oddio, cioè Questo, attenzione Oh oh, che cavolo è quel coso lì? Oh, sembra ostile Appena, guardate, appena ci muoviamo, guardate Cioè, faccio mezzo passo in qualsiasi direzione lui ci guarda Vuoi farcela, Captain Spirit? Certo che ce la fai Vai, Chris Vai, Captain Spirit Vai a vedere quanto vali Lo scaldamagno Ma se non erlo qua Lo scaldamagno è questa Questa volta lo scaldamagno non riuscirà a sconfiggermi Ok, dobbiamo usare il potere quando siamo vicini, probabilmente Lo scaldamagno odia qualcuno Ma dov'è? Cos'è lo scaldamagno? È in bagno, è tipo lo scaldabagno Cosa cavolo è sto scaldamagno? Ok, dobbiamo utilizzare il mouse, credo E premere tante volte, praticamente Per domare lo scaldamagno Cioè, bisogna distruggere il mouse Il click del mouse per dominare lo scaldamagno E adesso Capiremo cosa diavolo è questo scaldamagno E alla fine È uno scaldabagno, forse È un tipo La caldaia È tutto sto casino per la caldaia Cioè, ma pensate un po' Questo bimbo è veramente assurdo È stato facile Ho domato lo scaldamagno Ma credo che sia scaldabagno Questo logo appare appena tornato Ok, praticamente Eccolo qua Il cattivo scaldamagno Scaldabagno È stato domato Le altre cose Bisogna completare il costume di Capitan Spirit Dobbiamo trovare il tesoro Dobbiamo Ho sentito che Neve Manted Vuole distruggere la città Solo io posso fermarlo Quindi il cattivone Dobbiamo allenare la mira Ma il Mentroid Si sta ancora nascondendo il suo pianeta Qua abbiamo una serie dei personaggi da trovare E qua Possiamo giocare a Master Party 2 Ma prima dovevo sbloccare il telefono di papà Quindi andiamo avanti Praticamente era aspetto Lui l'ha riacceso So che non ti piace andare in rispostiglio E in effetti Non è il massimo E qua c'è praticamente Il giornale Andiamo a vedere The Great Northwest Sparatoria a nuove proteste Contra la polizia locale Siattol Continuano ancora le proteste Le rivolte Un mese dopo L'ispiegabile morte Di un uomo Del posto E di un poliziotto La polizia Non ha ancora rilasciato Un comunicato ufficiale Ma alcune fonti Ritengono che l'uomo Si è stato ucciso dal poliziotto Mentre le cause della morte In quest'ultimo Sono ancora ignote Dei gruppi di difesa Dei diritti civili Hanno accusato Il dipartimento Di polizia di Siattol Di aver condotto Le indagini Inadeguatamente Portando a proteste E rivolte Da parte dei cittadini Giornale Nulla di che Non mi pare Che ci sia scritto Nulla di che Qua abbiamo il portatile Una lettera Abbastanza cose Possiamo scaldare Alcune cose E portarle Al padre di Chris Di Captain Spirit Ma Voglio dire Di guardare Il portatile Ok Possiamo andare su internet Proprio grezzo Direi di andare su internet Ok Allora Devo vedere qua Unisciti alla rivoluzione Vuoi divertirti con Hotdog Man Man Scusate Scatta una foto A tuo figlio Ricoperto di senape E poi inviacela Abbiamo un sacco Di giochi esclusivi In palio Ogni mese Cosa vuoi vincere Cioè praticamente Forse possiamo giocarci Allora qua c'è la barra Tipo di windows Potta rocca Qua sembra un po' Chrome Potta roccato Andiamo a vedere qua Pensa al futuro Diventa un agente immobiliare Il nostro corso Di dieci settimane Ti insegnerà Tutto ciò che devi sapere Per iniziare a vendere Case E realizzare i sogni Lisa Vena È la migliore agente immobiliare Del nord ovest Partecipata a programmi radio Ed è stata votata Come la migliore Agente immobiliare 2015 Clicca per registrarti E avere uno sconto Del 10% E lui dice Non ci vedo papà Che fa sta cosa Allora Fai l'eroe Alla HeroCon 2017 Partecipa anche tu HeroCon 2017 E portland Dal 15 al 17 gennaio Nel centro E portland Più di mille ospiti Eventi e stand Fai l'eroe Scriviti subito Quindi forse Il padre non è così cattivo Come pensavo Clandestini in un treno Leggiamo Da un nome strano A me E quindi al padre All'attenzione di tutti i dipendenti Ultimamente i nostri uffici Di Beaver Creek Hanno ricevuto Vari lamentele Riguardo a passeggeri Clandestini in zona Sono noti per vari disagi Causati In tutto il nord ovest Quindi cercate di non rispondere A eventuali provocazioni Che potrebbero risultare In uno scontro Se doveste Rincontrare Riscontrare Scusate Problemi Vi trovaste In situazioni spiacevoli Rivolgetevi al vostro Superiore Per qualsiasi domanda Contattatevi via mail O venite a parlare Durante gli ore di loro Grazie Mike Stevenson C'è una mail impronunciabile sotto Comunque Supervisore Operazioni Ferroviere del nord est Quindi il padre di Chris È un controllore A questo punto Poi Queste sono le pagine di papà Notizie sportive Sembrano Il mondo delle statistiche Cerca Giocatore Cerca Qua sopra Giocatore Squadre Stagioni Punteggi Formazione Questa roba qua Cedia Registrate Questa roba qua Pronostici C'è questo Giocatore Dalla Z Statistiche D'università E status Nulla di che Praticamente Se no Questo Che però Non credo Che possiamo Fare E non c'era niente Il cellulare C'è C'è una lettera Attenzione Leggiamo Dattore Ha partito Che bravo Ho capito Caro Charles Volevamo solo dirti Quanto ci teniamo A te E a Chris Capita Spirit Chris So che la vita È diventata molto più dura Da quando Emily Ci ha lasciati Quindi forse È morta la madre Ma siamo ancora Una famiglia Vogliamo che tutto Rimanga come era prima Per questo Vogliamo assicurarci Che Chris Riceva tutte le attenzioni Di cui ha bisogno La sua tenera età Forse sono i genitori Della madre Siamo sempre stati onesti Con te Quindi prendi le nostre Preoccupazioni come un segno Del nostro amore E lo stesso tipo di amore Con cui hai amato Nostra figlia Sono i genitori Della La moglie Che forse a questo punto È morta Abbiamo anche sentito Che sei stato coinvolto In una rissa da bar Ma la polizia Non ha voluto arrestarti Grazie al cielo Abbi cura di te Vogliamo aiutarti Oh rissa da bar Sarà stato ubriaco Vogliamo aiutarti E se sei d'accordo Vorremmo prenderci cura Di Chris Per il prossimo anno O per tutto il tempo Di cui hai bisogno Vorremmo Anche che tu prendi In considerazione L'idea di entrare In un gruppo di supporto Allora detto così Sembrerebbe Cioè la lettera È scritta bene Ma il messaggio sotto è Dacci il bambino Perché tu sei Pericoloso E Lo teniamo noi Cioè Per ora è questo Andiamo a leggere La pagina successiva Perché lui dice Non apponderare mai papà Non ti stiamo giudicando Vogliamo solo farti capire Che ci teniamo Mettendo a disposizione La nostra casa E dimostrando il nostro amore Per tuo figlio Forse una lettera Potrà sembrarti impersonale Ma non vogliamo metterti fretta Se pensi che siamo Troppo invadenti Ti prego di perdonarci Vogliamo solo che tu sappia Quanto ci teniamo A te e a Chris Siamo qui Per entrambi Sempre Peter Che credo che sia Il padre Della Della moglie Del Ovviamente Del padre di Chris Ma a questo punto Quindi la moglie Abbiamo capito Innanzitutto Una situazione Non Eccelsa E soprattutto Che la madre Del piccolo Chris Di Captain Spirit E' morta E lui sta correndo Sempre la partita Questo è il cellulare Dobbiamo giocare A Must Party 2 Riusciremo già a farlo Non credo Perché Sappiamo che dobbiamo Sbloccarlo L'abbiamo letto E c'è un codice PIN Ok Non sappiamo Il PIN CODE Sostanzialmente Quindi bisogna Capire anche Il PIN CODE Se troviamo Qualche PIN CODE In giro Molto bene Ci sono dei libri Qua Andiamo avanti L'esplorazione Ok lui dice Mi sarebbe piaciuto Passeggiare in questi sentieri Con la mamma Un libro sui sentieri E questo qua E' un libro d'arte Teen Spirit Seattle Da 90 a 95 Di Mark Jefferson E' un libro Sulle foto Credo Però non Non ci farei La firma Su questa cosa C'è una foto Di famiglia Forse Ah è E' suo padre Con Nick In Westerland Vestiti da Praticamente Da sceriffo E da bandito Belli C'è la pistola Giocattolo Possiamo sparare Al padre Spariamo al padre Vediamo cosa succede Questo mi sa Che si incacchia Bestia Oppure no Io spero di no Ok E' tipo E' tipo Il nerf Credo Qualcosa del genere No è peggio E' quello con Oh però è simpatico Cioè Ogni tanto è simpatico Quando non è ubriaco Super zombie Praticamente ha liquidato Capitan Spirit Colpisce ancora Ma Capitan Spirit E' stato liquidato dal padre Così Va bene Ok Ci sono altri libri Allora La città del dolore 50 film western Per cui morire Quindi Il padre Appassionato di western L'abbiamo visto anche Nelle foto E questo Questo è veramente brutto I diari della bella donna Di Tiffany Croc Non credo di averlo mai letto Però ci farei una ricerca Ora Qua possiamo andare in bagno Possiamo uscire Possiamo andare qua Ma Sbaglio Sta suonando un telefono Il cellulare No Non è il cellulare Qualcosa che arriva da qua Sì 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 Ok Eccolo Eccolo Vediamo chi chiama Che cavolo è Ok Ehi Chi è Chi è Chi si chiama Non lo so Chi è Chi è Grazie per chiedere Il mio nome è Derek E sono un membro Della città Univisuale 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 Io vorrei Ti raccontare E la tua famiglia Dio Il nostro Dio E il nostro Dio E il suo Ah vabbè Ok Non credo Che ci interessa Non vedo Una situazione Interessante Di solito Si mette Ha messo giù Grande Chris Ha messo giù Incredibile Ok Allora Qua Allora Io adesso Non ricordo Però Non eravamo Andati a vedere Queste cose qui Né quelle cose lì Almeno mi sembra Guardiamo Si questa si Questa si Questa si Andate a vedere Il frigorifero Sappiamo che possiamo fare qualcosa Questa è la lista della spesa Zucchero Carta pile Caffè Birra Latte Le patatine E patatine barbecue A questo punto Faccio Esattamente come dice lui Aggiungiamo il gelato Che non è male Il gelato Voglio il gelato Gelato per il nostro Capitan Speer Allora amici Ho giocato un po' di minuti A questo gioco Assieme a voi In questo gameplay Secondo me È eccezionale Le possiamo riciclare Forse possiamo utilizzarle Ci sono dei numeri di telefono Ah sono i numeri da chiamare In caso di emergenza Credo Vediamo un po' Alla pizzeria Reynolds E il cellulare di papà Sono i numeri Importanti Perché il cellulare di papà È l'ultimo Non si sa Non credo che nasconda Qualche codice Allora Direi di finire qua Il giro Aggiungendo Legna alla stufa Proprio da bravi bimbi Avevo paura Che ci filasse dentro Una mano Sinceramente Ma in realtà Deve aggiungere solo Della legna Aggiungi la legna Molto bene Molto molto bene Andiamo qua Oh qua c'è tante cose C'è un giocattolo T-Rex Marty Rex E direi Di giocare Ma era uno dei personaggi Forse C'è un giocattolo Saurolandia La chiamata Cioè Ah Stai rimasto bloccato Davanti alla tele Questo bimbo Questo bimbo è pieno Di inventiva Beh non si sa mai Dipende se fai il bravo Questo cos'è? Ah il giornale sui treni? Non le legge mai Non le legge mai Il boxcar Il diario del passeggero La terra della ferrovia Poety bit Su un treno Di San Francisco E dice che non li vede mai Smetto davanti alla tele Ah ok Mi dice infatti Ok Va bene Le chiavi della macchina Prendiamo le chiavi Era un brubriaco Forse Ok dobbiamo metterli In una ciotolina Va bene Ma Abbiamo anche un inventario Che è questo qua Che vedete In alto a destra Poi Vediamo se c'è Qualcos'altro Però qua Una macchinina nascosta Non credo che serva Qua Sì 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 Abbiamo Tipico divano brutto Tra l'altro E' veramente Concio da far schifo Ma la madre Abitava qui Credo che lo scopriremo Quello che Possiamo sederci E' un po' come Life is Strange Potevamo prenderci Queste pause Sederci E poi eventualmente Pensare su qualcosa Su come fare delle cose Andiamo a vedere qui E in effetti Sì Il T-Rex Era parte del disegno E' molto bene Qua c'è un altro personaggio Sembra un Power Ranger Era un ninja Ma non c'entra nulla Ah cavolo Quel Tacquino lì era qua E adesso il padre L'ha preso Sembra che ci sia Ah ha messo in pausa La partita Differita la partita Ecco che dice Lo fa solo arrabbiare Sì Perché Perché E' ubriaco E lui si arrabbia No non credo No Io devo ancora capire La botta che ha preso Abbiamo Dopo la partita Va bene No Scusate Vabbè Dopo la partita La mamma guardava Le partite Beh non gliene fotteva Niente Praticamente Il suo è super Va bene Ok Non capisco bene Le regole Eh ha ragione Dai Beh un videogame Ti segna le regole Comunque 3 metri 3 metri Un po' esagerato Facciamo un metro e mezzo 3 metri Un po' esagerato Ecco Lui praticamente Aveva questo qua Giù qua Però sta scrivendo Non posso prendere Tipo il telecomando E rimettere il play Magari lui A questo punto No eh No Non mi fa fare No Ce li hai i superpoteri Diciamo Uh la stufa Ha i superpoteri Brucia Potrevo sfruttare I superpoteri Fantastici Capitan Spirit Bellissimo Bellissimo Cioè Bambino Dalla grandissima Fantasione Vediamo qui Se c'è qualcosa Sono foto di basket Oh quindi Championship winner Il padre è un campione Di basket Ok Vedete che scopriamo Tante cose Mi giocava Questa è una foto Di quando giocava Questo sicuramente Era lui E purtroppo Qualcosa deve essere successo Ci sono i trofei Comunque del 2005 Quindi Tempo fa Immagino Non so quando è ambientato Il gioco Attualmente Non l'ho capito Però Posevo le chiavi della macchina Magari ci serviranno dopo Però iniziamo a posarle Bene 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 Ma possiamo In teoria usare anche il telefono Ancora Chiama papà Chiama i Reynolds Chiama il pronto pizza Per ora direi di no Però sappiamo che possiamo Chiamare i tre numeri Ah Chiama il padre Vuoi vedere Che se faccio Chiama il padre Lui sblocca il telefono Io ci provo Può essere no Che faccio Chiama papà Suonerà il cellulare Eccolo lì Molto bene Però pensavo Sì Ci ho sgamato al volo Eh però Non ha funzionato Non ha funzionato come Speravo Io direi di tornare Prima Qua c'è la camera di papà Il bagno Possiamo uscire Da questa parte Qui ho visto Sì Qua possiamo andare Di qua Da questa parte qua Possiamo uscire Dall'altra parte Ok Perfetto Qua c'è l'interruttore Qua c'è la chiave Del garage Anche Più importante Abbiamo anche il garage A questo punto Ah Qua c'è la magliata Del padre Ericksen Guardate Tra l'altro Autografata Guardate qua Cosa interessanti Si capiscono In questo gioco Allora Torniamo in camera Un attimo Perché non l'abbiamo Finita di esplorare Nella scorsa puntata Possiamo Accendere C'è anche una console C'è una scatola Di petardi C'è un bel po' Di cose Allora Questa qua Ah La classifica Pizzarcade L'abbiamo già vista Sì Abbiamo già visto Che fa il trucco Col telecomando Questa è la console E' una sorta In playstation 2 Un po' Strana Diciamo strana Ma qua ci sono I petardi Anche Ha fatto esplodere Il bidone La spazzatura Oh Qua c'è il guerriero Della foresta Però prima c'è la La lettera di Babbo Natale Vediamo cosa vuole Però Babbo Natale Credo di essere stato Bravo quest'anno Quindi vorrei queste cose Uno Dog Adventure Playbox Quindi un gioco Una playbox nera Però non ce l'ha Non è quella Forse non è la playbox Poi playstation Playbox Vabbè Carta di disegno Più penne colorate Cancellato Quindi via Lezioni di basket Baci baci Chris Quindi vede Comunque il padre Come un esempio Perché chiede le lezioni Di basket Abbiamo anche un libro Sui vichinghi Quale tipo di viching E' ralph il vichingo Che è un po' come Vicky il vichingo Non so se l'avete mai visto C'è Credo che sia quel C'è un manuale di disegno Imboscato Quindi la madre disegnava Come disegnare i supereroi Chris Come Siccome diventerai il mio supereroe Personale Questo è un buon libro Per iniziare Puoi fare tutto quello Che io non sono mai riuscito a fare Non vedo l'ora di passare Il resto della mia vita Guardati mentre Salvi il mondo Ti voglio Tanto bene Supermamma Che purtroppo Lei non c'è più Allora qua invece Avevamo visto tutto E a questo punto L'endero dell'avvento Ok Ci manca solo Qua Il guerriero della foresta Che è uno dei suoi Tra l'altro E' uno dei suoi personaggi Allora amici Però io direi Che per questa puntata E' tutto Andremo avanti da qua E continueremo Abbiamo esplorato abbastanza Abbiamo ancora tanto a esplorare E anche tante missioni da fare Le vediamo qua Eccolo qua Bisogna completare ancora Il nostro vestito Con tipo delle polsiere O comunque dei guanti O qualcosa La mascherina Questo l'abbiamo terminato Dobbiamo cercare di giocare Qua stiamo completando il disegno Qua ancora niente Qua abbiamo qualche idea Qua il tesoro di Capitan Spirit Da trovare Ma ci serve l'altro pezzo della mappa E poi anche qua Fermarlo Quindi queste sono le missioni Di Capitan Spirit Ma per questa puntata di tutto Vi voglio ricordare di iscrivervi al canale Mettere un like Un commento Una condivisione Attivate la campanella Condividete il video Con i vostri amici E ci vediamo nel prossimo Fattutissimo video Ciao a tutti E ci vediamo nel prossimo E ci vediamo nel prossimo